Il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci risponde a Ranieri sull'esposto presentato ieri dal Movimento 5 Stelle alla Corte dei Conti sulla vicenda di Abruzzo Engineering. Secondo il Movimento, infatti, la società in house starebbe lavorando per il Comune dell'Aquila in violazione delle norme che regolano l'affidamento in house, mentre restano ancora esclusi gli doni del cosiddetto concorzone. Dalle informazioni in mio possesso, spiega Pietrucci, il personale di Abruzzo Engineering impiegato nella ricostruzione con la convenzione richiamata del 15 settembre è pari a 121 unità e non 111. Mi pare che il costo non sia quello dichiarato nell'esposto dal consigliere Ranieri, in cui è indicata una cifra comprensiva di IVA, che viene trattenuta alla fonte direttamente dal committente, ma di quasi 1000 euro di meno al mese per persona, comprensivo peraltro di postazione ufficio, computer, software, stampanti, toner, cancelleria, vetture per sopralluoghi e interventi. Ritengo questo, dice Pietrucci, un costo assolutamente in linea, quando non inferiore a parità di livello degli altri soggetti impiegati nelle attività di ricostruzione. L'affidamento di lavori, spiega Pietrucci, avviene da parte dell'USDRA, soggetto costituito proprio da Regione Abruzzo insieme ad altri enti e ministeri. Non c'è nessuna competizione con gli doni del concorzone. Penso infine che il collega Ranieri, sia male informato, conclude, anche rispetto ai presunti fondi europei da utilizzare per sostenere Abruzzo Engineering, cosa assolutamente falsa. Come firmatario del progetto di legge discussi e approvato dal consiglio, mi sono assunto la responsabilità di salvaguardare un'azienda della quale l'attuale governo regionale ha ereditato un contenzioso di circa 30 milioni di euro, imputabili e creati da altre gestioni e governi regionali, e di chiuderli a 4,5 milioni di euro, ultimo ma non meno importante, con la mia legge, dice ancora Pietrucci, abbiamo dotato Abruzzo Engineering di un piano industriale che nel rapporto uscite maggiori in troiti è quasi a costo zero per la Regione Abruzzo. Sullo stesso argomento interviene anche Pietro Di Stefano, assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila. Ranieri, consigliere del Movimento 5 Stelle Regione, dimostra approssimazione mista a saccenza nelle sue dichiarazioni, dice, minaccia esposti alla Corte dei Conti senza sapere che l'azienda presta la propria opera nella ricostruzione post-sisma, coprendo di fatto e solo in parte, fa notare, la carenza di personale che gli enti pubblici denunciano per fronteggiare dopo il 6 aprile le centinaia di migliaia di pratiche dei cittadini abruzzesi che aspettano di vedere tornare agibile la propria casa. Se non ci fossero, e conclude, i lavoratori di Abruzzo Engineering, di fatto si fermerebbero i lavori, non si pagherebbero le imprese, non si potrebbero controllare i cantieri con il monitoraggio delle maestranze, non andrebbero neppure avanti le pratiche di definizione dei contributi.